Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della Verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli rimane presso di voi, e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco, e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo, e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi». Pace bene, amici, e ben ritrovati a questa domenica importante dell'anno liturgico, una delle più importanti, alla pari con il Natale e la Pasqua. È la domenica di Pentecoste, dello Spirito Santo, dimenticato come Dio, perché molte volte noi ci rivolgiamo, siamo abituati a rivolgersi a Dio, Dio Padre, a Dio Trinità, a Dio Figlio, al volto del Gesù di Nazareth, ma difficilmente, facciamo fatica a fissare il nostro sguardo, la nostra attenzione, la nostra adorazione, alla terza persona della Trinità, che è lo Spirito. E lo Spirito è il dono che Gesù ci ha lasciato prima di ritornarsene alla destra del Padre. È uno Spirito che non ci lascerà orfani, Gesù non ci lascia orfani, ha promesso questo ulteriore dono, che è segno, certezza, della sua fedeltà, della sua presenza nella storia accanto a ciascuno di noi, accanto alle nostre comunità, accanto alla umanità intera. La prima lettura che noi non abbiamo letto, per ragioni di tempo, ci presenta un quadro, quello degli Atti degli Apostoli, degli Apostoli descritti dagli Atti, nel successivo libro, subito dopo il quarto Vangelo di Giovanni, dove si descrive l'inizio della storia della Chiesa, della prima comunità cristiana. Troviamo gli Apostoli chiusi dentro nel Cenacolo per paura dei Giudei e a un certo punto, sul finire della Pentecoste, del giorno di Pentecoste, la Pentecoste era una festività che si celebrava anche presso il popolo ebraico, sul finire del giorno della festa della Pentecoste, irrompe lo Spirito e questi uomini impauriti, timorosi, escono sulle piazze e cominciano ad annunciare le meraviglie di Dio, ritrovano forza. Ecco, una prima caratteristica dello Spirito, un primo dono che lo Spirito inforne in ciascuno di noi, lo Spirito di fortezza. Noi siamo molto timorosi oggi più che mai, ci sentiamo messi in minoranza, ma Gesù Cristo ha vinto la morte. Se ha vinto la morte, che è la somma di tutti i mali, non dovrebbe più farci paura niente e nessuno, anche perché Gesù è con noi, il suo Spirito di fortezza ci sostiene sempre nel cammino della vita, nel cammino della fede, nel dare testimonianza al Gesù morto e risorto. E poi che cosa succede? Che annunciando le meraviglie di Dio troviamo persone che provengono da ogni parte della terra. C'erano giudei osservanti di ogni nazione, c'erano parti, lamiti, e tutti costoro li sentivano parlare con un solo linguaggio. Cioè era, naturalmente gli apostoli parlavano in ebraico, nel giudeo, nell'aramaico, nel galileo aramaico, probabilmente una forma di elettare della lingua ebraica, eppure li sentivano parlare speditamente, ciascuno nella propria lingua. O meglio ancora, tutti quanti, nonostante questi uomini poveri, ignoranti, che facevano i pescatori, quindi non sapevano né leggere né scrivere, eccetto qualcuno, probabilmente, queste persone che parlavano un linguaggio dialettale, questo linguaggio veniva capito, compreso, da tutti quanti. Che cosa fa? Qual è l'altra funzione, l'altra caratteristica, l'altro dono che lo Spirito Santo porta dentro una umanità travagliata? La comunione. Lo Spirito è uno Spirito di unione, di comunione. in questo mondo dissetato, dissestato, non dissetato da niente e da nessuno, che ha sete ma non sa da che parte e a quale acqua attingere per abbeverarsi, che è continuamente travagliato, distrutto e diviso dalle guerre, dalle ingiustizie. Ecco, noi sappiamo a chi fare riferimento. È lo Spirito, è lo Spirito Santo che crea unità, comunione. Possiamo essere dei poveri diavoli, incompetenti, incapaci, non adatti a comunicare le grandi meraviglie di Dio, come in fondo lo erano gli Apostoli, erano semplicemente dei testi nuoni. Ecco, questi Apostoli, attraverso lo Spirito, questi Apostoli, rendono comprensibile il loro linguaggio, il loro annuncio a tutti, a tutti gli abitanti e le persone che in quel momento, in quella festa, in quella solennità, si ritrovavano dentro le mura della città santa, abitanti di ogni regione dell'impero romano. Lo Spirito crea comunione, lo Spirito crea forza, lo Spirito crea comunione. Lo Spirito conduce la pienezza della verità, ci dice il Vangelo di oggi. Non ci lascia orfani. Quante sono le caratteristiche e i doni che lo Spirito Santo elargisce su ciascuno di noi, sulla Chiesa e nell'unità, dentro l'umanità intera. E allora facciamo riferimento a Lui, preghiamolo, cerchiamo di accorgerci della Sua presenza, raccogliamo nella fede questa promessa, questo dono che Gesù ha fatto duemila anni fa, perché è solo attraverso lo Spirito possiamo riuscire a ristabilire un ordine, una comunione, una circolazione di amore tra gli uomini e le donne che vivono, camminano sulla faccia della terra. Pace bene, amici, e buona solennità di Pentecoste.